Ospiti nell'ultima puntata di Verissimo, i finalisti dell'Isola dei Famosi tutti in tiro rifocillati e vestiti a puntino. Per alcuni degli ex-naufraghi però le dinamiche del reality non sono del tutto dimenticate. Abbiamo infatti assistito al diverbio tra Siffredi e Scanu, che ancora una volta non hanno avuto peli sulla lingua nel confrontarsi dalla Toffanin. Ebbene Rocco ha accusato Valerio di essere arrivato sin troppo avanti nel gioco e dice Io non ho nulla contro Valerio. È che passare 5 settimane a spremersi i brufoli e poi l'ultima settimana fare un'isola vuol dire non meritare la vittoria. Rocco ha anche detto a Valerio che avrebbe dovuto essere più riconoscente nei confronti di Rashida che si è tolta il cibo per sfamare il gruppo, ma che nell'ultima settimana ha avuto un crollo psicologico. Da parte sua Scanu ha prima chiarito di avere una bella pelle senza acne e poi ha puntualizzato. Io mi sono sempre estraniato dalle discussioni degli altri con Rashida. Dopo 5 settimane, aggiunge, esce il vero carattere della persona. Non ho fatto nessun tipo di crociata contro nessuno.